Salve a tutti ragazzi, lui è Soul, è un'oranda molto 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 particolare come potete vedere con questi colori. La sua particolarità è che ha gli occhi diversi, infatti da una parte il suo lato sinistro ha l'occhio completamente nero e ora quando si gira vedremo anche l'altra parte, eccolo qua, e dall'altra parte invece un po' più grigio, un po' più verso il bianco. Questa è una particolarità genetica, è come una persona che ha capelli biondi invece un'altra che li ha più scuri. Allora per favore se il video vi è piaciuto iscrivetevi perché il 90% delle persone che guardano i miei video non è iscritta e detto questo vi auguro una buona giornata e noi ci vediamo al prossimo video.